Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, due comunicazioni molto importanti. Da oggi i giorni e gli orari di pubblicazione saranno i seguenti. Il giovedì sera alle ore 21 uscirà il video degli allenamenti in compagnia di Alessandro, mentre la domenica sera alle ore 21 il resoconto sul ciclismo in compagnia di Gabriele. Grazie a tutti. Second thing, second don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, 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 the master of my sea, oh, ooh, 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 ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing from heartache, from the pain. Alessandro questa settimana ha preso dei parametri sulla mia respirazione dopo alcuni esercizi per capire a quanto andasse il mio battito cardiaco. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione!